Tanti rimpianti, tanti rimpianti della Roma che in un olimpico stracolmo di gente riesce a battere il Liverpool 4-2 e Manonna compie ririmpresa ribaltando il risultato dell'andata e conquistare la finale di Champions I rimpianti vanno soprattutto riferiti al risultato della partita di Anfield in cui i giallorossi hanno avuto 40 minuti di completo blackout e hanno subito 5 gol Questa sera invece abbiamo visto una squadra forte, una squadra in grado di raggiungere obiettivi importanti che ha creato tante occasioni, ha preso un palo, gli è stato negato un rigore per un netto fallo di mano all'interno dell'area Ha subito sì due gol a causa di due sviste difensive ma che ci possono stare se in una partita come quella di oggi giochi prettamente all'attacco quindi ci possono stare Comunque la partita di oggi ci ha dato modo di vedere anche le lacune difensive del Liverpool che in parte erano già venute fuori negli ultimi 15 minuti della partita di andata ma oggi hanno avuto più che conferma perché abbiamo visto come la Roma praticamente li bucavano da tutte le parti e Scharaui entrava, Schick entrava, Dzeko faceva dribbling in mezzo a tre persone era diventata una cosa assurda cioè praticamente la difesa del Liverpool era più trafficata del raccordo a nullare stesso all'ora di punta da qui mi nasce spontanea una domanda ma con questa difesa del Liverpool che si va a presentare in finale contro il Real Madrid cosa spera di ottenere? cioè Ronaldo e compagni avranno vita facile con la difesa del Liverpool e quali metodi può adottare Klopp per agginare la squadra due volte consecutive campioni d'Europa? beh scrivetelo nei commenti qui sotto riscrivetevi al canale mettete mi piace al video e da Calcio e Champagne è tutto cin cin a tutti